Da un lato si protegge l'ambiente, dall'altro si dà un sostegno alle fasce sociali svantaggiate. Al tempo stesso si riducono i costi e questo è il senso dell'intesa firmata a Pozzili tra Greise Energy e Conf Cooperative Molise. Con questa convenzione i soci beneficeranno di una serie di progetti che consentiranno di abbattere i costi della bolletta grazie all'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici. Si comincia con alcune strutture della cooperativa sociale Casi che ospitano disabili e anziani. La convenzione prevede inoltre l'investimento di una parte del fatturato in progetti sociali da attuare in Molise. Si andrà a favorire sia le cooperative ma anche i soci delle cooperative aderenti che sono circa 12.000 persone. Io credo che è un'opportunità che non possiamo perdere e credo che lavorando in rete si possa veramente migliorare la situazione economica e finanziaria delle nostre cooperative. Oltre tutto all'interno di questa convenzione abbiamo previsto grazie a Greise Energy e a Enel di dedicare l'1,5% di investimenti per progetti sociali. Per cui è la prima volta che accade che un'impresa, un grosso gruppo, è interessato a fare praticamente solidarietà. E questo ci creano delle grosse opportunità per aiutare quelle fasce svantaggiate che oggi vivono in stato di disagio. Questa iniziativa ha già consentito di creare qualche posto di lavoro e in prospettiva potrà portare benefici anche alle famiglie. Il messaggio che sto dando attraverso a Coffe Cooperative, al di là dell'aspetto sociale che ne è stato già parlato prima, è quello di riuscire in qualche modo a dare messaggi alla popolazione che qualsiasi utente può essere un produttore di energia. Qualsiasi utente, oggi come oggi, può avere la possibilità di poter essere dei piccoli produttori di energia a costo quasi zero. A costo quasi zero cosa vuol dire? Vuol dire effettivamente che riesci a pagarsi il proprio impianto nel risparmio della bolletta. Siamo sul territorio per dare un minimo di serenità anche a chi in momenti come questi deve investire qualche soldo che non c'è.